Ha preso via l'iter parlamentare della legge olimpica, ne parla il relatore Roger De Menek. Oggi abbiamo incardinato in Commissione Cultura il provvedimento olimpico, una legge importantissima che dovrà gestire l'evento di Milano-Cortina del 2026. In un momento drammatico della nostra comunità con l'esplosione del contagio del virus, pensiamo al dopodomani. E quindi non solo a gestione ordinaria, come è giusto che sia, di questo evento straordinario come è il virus, ma anche a pianificare il futuro. Il futuro di una grande manifestazione è un futuro di sviluppo, di opere, di infrastrutture, di risorse che arriveranno nei territori della Lombardia e soprattutto del Veneto. La possibilità quindi di dare prospettiva a tutti i nostri concittadini in un settore strategico come è quello della promozione del territorio. Ecco, quindi tutto questo è dentro la legge olimpica. Speriamo dia soprattutto fiducia alle nostre comunità. La settimana prossima, fa sapere parlamentare su Facebook, concluderemo la discussione in Commissione per andare in aula dal 15 aprile per l'approvazione del provvedimento.